Taglio del nastro oggi al Circolo Tennis Peppe Verna dell'Aquila per l'inizio del Tour Abruzzese che riporta in regione il grande tennis, presidente del Circolo Pierpaolo Pietruccio, ospitato il direttore del torneo Luca Del Federico, l'assessore regionale dello sport Guido Liris e il main sponsor Mauro Scopano. Al Circolo Tennis Aquilano da oggi fino al 22 maggio, Open Nazionale Maschile e Open Nazionale sia femminile che maschile avrà in regione ben nove tappe in diversi circoli del territorio mentre gli internazionali di tennis che partiranno da giugno all'Aquila per terminare ad agosto a Pescara vedranno quattro tappe internazionali con atleti di grande spessore. Il taglio del nastro, la presenza di due tennisti aquilani con tutti i presenti che hanno rimarcato l'importanza di questo progetto che apre a tutto l'Abruzzo il mondo dei grandi eventi tennistici.